ciao ciao a tutti oggi è 8 di novembre mi vedete qui piegato nella mia nella mia serra che ho costruito per proteggere gli alberelli che stanno crescendo dall'inverno inverno che in realtà non è ancora del tutto arrivato qui in puglia ieri facevano 22 23 gradi quindi parliamo proprio di temperature molto molto miti però di sera comunque la temperatura un po di più scende rispetto a prima e vi volevo far vedere oggi a tre mesi circa dalla dalla semina dei primi semini di cipresso che cosa sta succedendo vi giro la telecamera e vi faccio vedere allora ci avviciniamo anche un poco e quello che vi volevo mostrare è proprio che i cipressi stanno cominciando a svilupparsi non solo in altezza ma anche lateralmente con dei rami proprio con delle ramificazioni laterali che fino a poco tempo fa non c'erano non è solo questo insomma un po tutti i primi che ho piantato stanno si stanno comportando la stessa maniera qui ne vedete uno che ha appena cominciato a mettere un rametto laterale però un po tutti in realtà adesso faccio una panoramica e questi sono quasi tutti cipressi poi va bene c'è qualche carrubo se seguite il canale sapete che non sto piantando solo cipressi e poi qui ci sono le prime roverelle querce insomma di vario tipo che sto cominciando a piantare e va bene perché vi ho voluto far vedere questo secondo me è importante perché comunque significa che gli alberelli stanno crescendo bene insomma tutti gli sforzi che sto facendo sono importanti per loro e stanno dando dei risultati e io ho cominciato col mettere all'incirca 4 litri d'acqua per tutte queste queste piante che in questo momento sono circa 130 però adesso sto riducendo sempre di più siamo arrivati ad un litro d'acqua per tutte le piante spruzzato sopra vaporizzato con il mio vaporizzatore io uso questo sistema perché non voglio andare a mettere acqua direttamente sul terreno ma voglio fare un effetto pioggia diciamo come se ci trovassimo proprio in una serra o comunque se piovesse in un bosco e vedo che fino ad ora le piante stanno rispondendo bene e nulla quindi questo è quello che sta succedendo a tre mesi di distanza ci vediamo non so quando appena avrò un aggiornamento e niente ciao grazie